Musica Si chiude al ritmo di jazz il Festival Smart Storie e Musica Arezzo Teatro ideato da Officine della Cultura in collaborazione con la Fondazione Guido d'Arezzo e l'Associazione Jazz on the Corner A far da cornice all'evento l'Anfiteatro Romano messo a disposizione dalla direzione regionale Musei della Toscana Musica In città è così arrivato uno tra i solisti più richiesti della scena jazzistica italiana Fabrizio Bosso accompagnato sul palco dalla Jazz on the Corner Open Orchestra diretta da Francesco Giustini Si tratta di un ensemble che riunisce 18 musicisti a retini L'orchestra è un progetto che è nato lo scorso anno che portiamo avanti molto faticosamente Ma diciamo che quello di stasera è sicuramente un punto d'arrivo importante E speriamo sia un nuovo punto di partenza per altri progetti Io dirigo l'orchestra, non suono, anzi a dire il vero suono lo strumento più bello di tutti che sono appunto le persone Grazie 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 a tutti.